Il piano operativo sanitario è il documento che ridisegna l'assetto sanitario della regione molise. Un documento strategico che quindi influirà sulle scelte sia in ambito sanitario ma che avrà delle grandissime ripercussioni in ogni altro ambito sociale. È stato adottato questo documento da Donato Toma senza alcun confronto con le parti sociali, con i sindacati, con il Consiglio regionale, con gli amministratori locali per cui un atto d'imperio potremmo definirlo con cui Donato Toma ha imposto la sua volontà in ambito sanitario e naturalmente questo documento finisce, termina l'opera di completa privatizzazione della nostra sanità. Tutto questo è naturalmente inaccettabile per cui abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio monotematico che si discuterà lunedì 27. In quella sede chiederemo come Movimento 5 Stelle l'annullamento di quel documento e la revisione dei contratti con i privati accreditati con dei limiti di spesa ben fissati, invalicabili e lo stop all'extra budget, alla pratica dell'extra budget che ha distrutto i conti della nostra sanità in questi anni. Un ulteriore appello voglio rivolgerlo alla conferenza dei sindaci. È bene che questo documento di distruzione ulteriore della nostra sanità venga impugnato da quest'organo anche perché dovete in qualche modo rivendicare la vostra importante funzione altrimenti finite per fare il gioco di Donato Toma e finite per fare il gioco di chi vuole privatizzare la nostra sanità. Quindi a voi che va il mio appello e il nostro appello appunto a impugnare questo documento e far valere le ragioni dei cittadini molisani. Tutto questo è inaccettabile, nessuno di noi può stare a guardare ma soprattutto ognuno deve fare la sua parte.